Ok, allora questa mattina riprendiamo l'esercizio che abbiamo svolto insieme mercoledì scorso su cui in parte avete anche giocato nel laboratorio di mercoledì, come sempre come pretesto per vedere qualcosa di nuovo. Allora, ricordate che quando abbiamo fatto insieme in aula abbiamo giocato su modi diversi di costruire il grafo, poi ci avrete probabilmente giocato anche voi in laboratorio, qualcuno avrà dato un'occhiata alla versione del progetto che avevo messo su GitHub, dove ho leggermente un po' riordinato il codice, creano tre metodi, crea grafo 1, crea grafo 2 e crea grafo 3, scusate per la fantasia, che usano i tre metodi che abbiamo visto insieme la settimana scorsa. Il primo, ricordiamoci, calcolava l'insieme di vertici, quindi di fatto chiedendolo al DAO e per ogni coppia di vertici con questo doppio loop richiedeva di nuovo al database se per caso quei due vertici fossero confinanti oppure no e quindi faceva nell'ordine di nquadro query, query semplicissime che andavano semplicemente a testare una riga all'interno del database. La seconda versione invece, dopo come sempre aver ottenuto tutti i vertici, andava a prendere un vertice alla volta e dato quel vertice chiedeva al database, faceva al database una domanda leggermente più complicata, dato a quella country, quel nodo, quali sono i nodi adesso adiacenti? Quindi avevo non nquadro, ma solamente più n ripetizioni di una query che in questo caso era leggermente più complessa. E poi ovviamente per tutti i vertici adiacenti che venivano trovati dovevo aggiungere l'arco al grafo. La caragrafo 3 invece delegava completamente il lavoro al DAO, cioè fai una query sufficientemente complessa che mi dia già direttamente le coppie di vertici che mi servono, punto. E quindi il modello qua non farà altro che prendere i risultati di questa lista di coppie di country adiacenti, che è già esattamente la lista degli archi, e trasformarli in archi del grafo. Abbiamo visto e abbiamo ragionato così sulla carta, su quale potesse essere il migliore, quale potesse essere il miglior compromesso. Allora va bene sulla carta, ma io ho poi provato a farlo sul serio. Allora, farlo sul serio significa andare a implementare innanzitutto nel DAO, perché quando l'avevamo fatto insieme avevamo semplicemente ipotizzato che esistessero questi metodi, list country, confinanti, eccetera. Sono andato a implementarli come metodo del DAO in modo da poterli testare. Allora, spendiamo solo 10 secondi per ciascuno per dargli un'occhiata, non c'è nulla di speciale, questo metodo confinanti, ricordiamoci nel metodo 1, io avevo una coppia di vertici e chiedevo al database, dimmi per favore se questi due stati sono confinanti o no, secondo il criterio che ci eravamo dati, che era quello del confine via terra. Allora, in questo caso la query da fare, semplicemente sulla tabella contiguity, chiediamoci se nella tabella contiguity esiste una riga in cui lo stato 1 e lo stato 2, che sono le due colonne questa, state 1 e state 2, scusate numero, non abbreviazione, se la coppia di questi numeri è uguale, guarda caso, se esiste una coppia di questi numeri che sia, guarda caso, uguale ai valori che vengono passati come country 1 e country 2. Quindi abbiamo una query con due parametri, quindi il primo è il country code della città 1 e il secondo parametro, il secondo punto interrogativo è il country code della città 2 e alla fine del risultato di questa query non me ne può fregar di meno, non mi interessa essenzialmente quale sia il risultato di questa query, mi interessa solamente se abbia un risultato oppure no, per come è fatta questa query, ora si truisce 0 righe nel caso in cui le due country che ho scelto non siano confinanti, ora si truisce una riga nel caso in cui siano confinanti, poi il contenuto di quella riga non mi interessa in un certo senso, perché in realtà ciò che mi serve sapere già lo so, stato 1, stato 2 e che la contiguità sia via terra è ovvio perché l'ho messo come filtro, come condizione. Quindi qui nel codice vedete che l'unica cosa che faccio dopo aver fatto la query, l'unica cosa che faccio è chiedermi se esiste almeno una riga, per sapere se esiste almeno una riga nel result set il metodo più semplice è chiamare il metodo next che dovrebbe posizionarsi sulla prima riga se c'è, se non ci fosse la prima riga il metodo next passa, ricordiamoci del set nasce col cursore posizionato prima della prima riga, se c'è una riga chiamare next posiziona il cursore sulla prima riga, se non c'è nessuna riga il metodo next prende il cursore che era prima della prima riga e lo sposta dopo l'ultima riga, quindi da sopra la tabella a sotto la tabella senza mai posizionarsi su nessuna riga interna nella tabella dei risultati perché non c'è nessuna riga nella tabella dei risultati. Allora in questo caso quando fa questo salto, schippa zero elementi e arriva direttamente da fuori prima a fuori dopo, il metodo next oltre ovviamente a non posizionarsi su una riga che poverina non c'è, restituisce falso, quindi se rest.next restituisce vero vuol dire che la prima riga c'è e per come fatta la query sarà anche l'unica, non ce ne saranno mai due, tre o quattro, perché la coppia di quei state 1 e state 2 sono una chiave per quella tabella, quindi se c'è almeno una riga so che il risultato è vero, sono adiacenti, sono da trattare adiacenti, se no il risultato sarà falso, questo metodo deve dirmi che questi due stati non sono adiacenti perché nella tabella non li ho trovati, non ho trovato nessuna riga che avesse quella coppia di valori e il ritorno risultato finisce qua. Il metodo 2 invece si basava su un metodo del DAO lista adiacenti che data una country restituisce la lista di quelle adiacenti, vediamo che la query è un pelino più complicata perché deve andare a mettere insieme la tabella contiguity con la tabella country, perché nella tabella contiguity io riesco a conoscere data al country 1 quali sono i country 2 adiacenti, ma poi dovendo restituire un oggetto country nella tabella contiguity non ho tutte le informazioni sulla country, per semplificare se io voglio conoscere i confinanti dell'Italia che è 325, dalla tabella contiguity so che uno dei confinanti è il 348, è bravo, ma il 348 qual è il suo nome? La sigla ce l'ho, ma il nome completo non ce l'ho, per averlo devo andare a collegarmi facendo un join sulla tabella country per recuperare tutti gli altri dati associati non alla nazione di partenza ma quella confinante che via via trovo, quindi vedete che qua il cuore di questa query è qua, contiguity.state1number uguale il valore che gli ho passato, ovviamente la continuità via terra, ma poi devo andare a recuperare il country code, l'abbreviazione e il nome dalla tabella country che ho messo in join sul numero di stato 2, quindi sono andato attraverso la join a recuperare tutti i dati dell'altra country, quella che sto scoprendo, in modo che io possa qua creare un nuovo oggetto country con tutte le informazioni, quindi per ogni singola chiamata di questa funzione viene eseguita una query, questa query internamente fa la join, quindi va a pescare gli altri dati, restituisce un real set che tendenzialmente è fatto di più righe, perché sono più di uno i confinanti di uno stato dato e noi creiamo questa lista e restituiamo questa lista, quindi la query è un pochino più complicata anche se sappiamo che verrà eseguita meno volte. Il terzo caso, avevamo invece ipotizzato di avere una query lista di coppie di country adiacenti, che un pochino deviasse dalla modellazione pura oggetti, dicendo ma a me cosa serve per raggiungere gli archi? Mi servono tutte, ogni arco è una coppia di country, quindi devo creare l'arco, per creare l'arco devo avere le due country. A me basta però, o meglio dalla tabella contiguity è facile conoscere i codici dei due stati, se io prendo questa tabella e vado a vedere solamente tutta la prima colonna e tutta la seconda colonna, state 1 number e la quarta colonna, state 2 number, l'elenco di queste coppie di numeri non sono altro che gli identificatori, chiaramente filtrando su contiguity type uguale a 1, gli identificatori delle coppie di vertici che devo collegare. Allora mi faccio una query che mi dia questi. Il problema è quindi, di fatto vedete che questa query non ha condizioni, cioè non ci sono punti interrogativi da nessuna parte, non è come nella prima query in cui avevo due parametri, città 1, città 2, dimmi se sono collegate, oppure nella seconda in cui avevo una città, dammi le altre, qui me le da tutte, quindi non ha parametri, lo si vede anche qua, questa funzione non ha parametri. Ovviamente è un pochino complicata perché oltre, come dicevamo già prima, oltre al numero mi servono tutte le informazioni degli stati, della coppia di stati, perché poi io quando devo aggiungere lo grafo, il metodo addeggio ha bisogno di due oggetti country, non di due numeri interi, che sono solamente il country code che è contenuto nella tabella contiguity. Quindi in qualche modo questa tabella contiguity va messa in join con la tabella country, una volta per recuperare i dati della nazione di sinistra e una seconda volta con un'altra coppia di country per recuperare i dati della nazione di destra. E questo lo vado ad inserire, questo risultato che è l'elenco completo, lo vado ad inserire in un nuovo oggetto molto semplice che semplicemente contiene una coppia di oggetti country, visto che questo metodo deve restituire una lista di coppie. Quindi le coppie di cosa? Di country. Quindi mi sono costruito questo oggetto country pair al volo che contenesse C1, C2. Quindi abbiamo di nuovo una query più complicata, perché fa due join anziché una sola, questa però viene chiamata una volta sola. Allora, qui si nota un trade off, un compromesso, se faccio il modello più complesso avrò il DAO più semplice, se faccio il modello più semplice avrò il DAO più complesso, cioè non è che la complessità riesco a nascondere sotto il tappeto, da qualche parte ce l'ho. Ma dal punto di vista dell'efficienza, fin qua abbiamo riguardato quello che avevo pubblicato su GitHub una settimana scorsa, ma adesso proviamo a farlo funzionare. Dal punto di vista dell'efficienza, io ho fatto un test model che chiama rispettivamente prima crea grafo 1, poi 2, poi 3, calcolando i tempi, mi stampa due statistiche sul grafo, numero di nodi, numero di vertici, giusto per vedere che spandometricamente costruiscano lo stesso grafo, poi dovremmo magari andare a controllare veramente gli archi e i vertici, ma ci fidiamo abbastanza. E vediamo il confronto dei tempi, cosa ci aspettiamo? non so, vediamo. Allora adesso sta girando in teoria il primo metodo, poi girerà il secondo, poi girerà il terzo. Tanto abbiamo tre ore oggi. No, no, no. Sembra che il primo metodo sia lentino. Noi non sappiamo ancora il secondo e il terzo, quindi non abbiamo modo di giudicare. Ma succede una cosa un po' inaspettata. Cosa sta facendo mentre lui gira? Chiediamoci cosa sta facendo. Sta facendo tante volte una query semplicissima, anche se riusciamo a vederla andando a vedere lo Stato. No, questa qui è la query che fa lui. Eccola qua. vorrei riuscire a beccare esattamente la query in esecuzione, ma non ci riesco. Nel frattempo lui ha finito, anche se ha finito con una videata che lascia poco di soddisfacente. Allora, ha sparato un errore che non abbiamo mai visto. Questo errore dice, communication exception, il driver non è stato in grado di creare una connessione per l'incapacità di stabilire la porzione client di un socket. Cosa vuol dire? Te lo poi lo spiega. Questo normalmente è causato da un limite nel numero di socket imposto dal sistema operativo. Questo limite è configurabile, se sei su Linux guarda una cosa, se sei su Windows ne guardi un'altra. Cioè, ma noi che centriamo con tutto questo? Scusate, mica abbiamo aperto socket. Noi stavamo facendo delle query. Uno dice, ma magari non le hai chiuse. No, no, le ho chiuse le connessioni, tranquilli, andiamo a vedere. Le ho bacato tre volte, sono chiuse le connessioni. Quello è, quanti sono le country? Sono a 218. 218 per 217, a casa mia fa 40 mila o giudilino, 47 mila query. Per ciascuna di queste query apriamo una connessione, quindi facciamo la connect, query, facciamo la query e poi chiudiamo la connessione. Subito dopo, manco ancora finito di chiudere la connessione, ne apriamo un'altra per fare un'altra query. Ok? Allora, aprire una connessione a livello tra il nostro programma Java e il database, a livello del sistema operativo significa aprire un socket affinché il programma Java comunichi con MySQL. Socket che viene aperto e poi ovviamente subito dopo chiuso, perché quando faccio connection close, quel suo socket viene liberato. Il problema qual è? Che il sistema operativo, una volta che ha chiuso un socket, ci mette un po' di tempo per liberarlo per davvero, per poterlo riusare. Allora, fingiamo pure che il sistema operativo ci metta, non lo so, in vento, perché non ho avuto modo di misurarlo, 10 microsecondi a rirendere disponibile un socket chiuso per poterlo, diciamo così, aprire una volta, un'altra volta. Ma se io apro un socket nuovo ogni 2 microsecondi, vuol dire che ogni volta che ne chiudo uno, ho tempo che si liberi quello e ne ho già aperti altri 4, o 5, dipende da come facciamo il colpo. Quindi il tasso a cui io chiedo nuovi socket, proprio perché ho questa connect dentro un loop molto molto stretto, è maggiore rispetto al tasso in cui il sistema operativo è in grado di liberare le risorse che prima ho preso e restituito. E quindi il numero di socket aperti si cresce, cresce continuamente fino a quando non raggiunge il limite massimo imposto dal sistema operativo, che è dell'ordine di qualche decina di migliaia, che proprio questo è il numero che è. Quindi io ho fatto una prova per convincermi che fosse davvero questo, questa è la causa, la prova che ho fatto era dentro il DAO, ma non vi infliggo questa prova perché purtroppo ci serve un po' da aspettare, qua dentro il metro confinanti, dopo che ho fatto il connesso punto close, prima di tornare al risultato ho messo una pausa di 10.000 secondi e giù di lì e ovviamente l'ho rallentato ancora di più, ma è arrivato in fondo. Quindi dal punto di vista funzionale è corretto, cioè fa le cose giuste, semplicemente dal punto di vista prestazionale chiedo al sistema operativo di lavorare con dei socket più rapidamente di quanto lui non possa fare. Quindi qualcosa non va dovremmo intervenire, ma vabbè vediamo come risolverlo tra un attimo, però adesso commentiamolo, vediamo almeno gli altri due. Abbiamo capito che questo metodo non arriva alla fine perché sta, posso dire la parola abusando, delle connessioni a livello di sistema operativo, delle connessioni TCP e IP locali. Allora proviamo a rieseguirlo senza il metodo 1, ci dà qualche soddisfazione in più, dicendo che il metodo 1 mi dice 0 millisecondi perché non l'ho fatto girare. Il metodo 2 e il metodo 3 costruiscono un grafo che sembra uguale perché gli archi vertici coincidono e il tempo nel metodo 2 è intorno al secondo, del metodo 3 è intorno al centesimo di secondo, un paio di centesimi di secondo. Proviamo a ripeterlo qualche volta giusto per avere normalmente, il valore esatto del tempo di esecuzione dipende da tanti fattori, da quello sta facendo il computer in quel momento, quindi per avere un valore affidabile uno dovrebbe ripetere l'esperimento un certo numero di volte e mediare risultati, però vediamo che grosso modo così a occhio sono ripetibili. Metodo 2, un secondo, metodo 3, un centesimo di secondo, da 1 a 2 centesimi di secondo. Teniamo a mente questi valori come ordini di grandezza. Il metodo 1 per ora non c'è speranza. Ma perché? Nel frattempo chiediamoci un'altra domanda, vediamo se questi dati ci quadrano. Prendiamo il metodo 2, il metodo 1 è talmente rapido che se vogliamo non mi aspetto di vedere nulla. Però il metodo 2, se io prendo la query, che era questa qua, lista di recenti, e provo a eseguirla, avevano detto che l'Italia è 325, quindi proviamo a eseguire questa query, adesso ovviamente devo buttare via le schifezze di Java, così, 325 con l'Italia, ok. Facciamo eseguire questa database. Run. Ci dà gli stati confinanti con l'Italia, compreso lo stato delle due Sicilie, eccetera, ma questo sapevamo già che questo database aveva questo problema, di non dirci quando finiscono le relazioni di continuità, però quello che mi stupisce è che dice che la durata di una query è 0 secondi, proviamo a ripeterla, mi continua a dire 0, che vuol dire che, visto che questo numero è espresso in secondi con tre cifre decimali, vuol dire che la durata, cioè il tempo per cui, io sto parlando direttamente con il database, il tempo che impiega il database per risolvere questa query è un millisecondo, 0 non può essere, ma non è sicuramente maggiore di 1, se no qua vedremo un numero. Allora c'è qualcosa che non mi quadra sul metodo 2. Sul metodo 2, dove faccio delle query che ho appena visto durano un millisecondo ciascuna, meno, diciamo un millisecondo, e quante query faccio, quante sono i vertici? Quanti sono i vertici? L'abbiamo visto un secondo fa, sono 218. Allora io mi aspetterei di avere non un secondo di tempo speso, ma 218 volte un millisecondo, cioè 200 millisecondi, mi seguite? Se io faccio 218 query, perché questo è ciò che faccio qua, e ciascuna query misurata direttamente sul database ci mette meno di un millisecondo, mettiamo uno per tenendo conto dei tempi persi, aggiungere nella lista, etc., mi aspetterei che tutto il metodo CreaGrafo 2 impiegasse 200 millisecondi al massimo, e noi l'abbiamo provato, ce ne mette mille di mille secondi, 5 volte più lento. Dove è finito sto tempo? Chi sta mangiando l'80% del tempo? perché tu dici 800 millisecondi, chi si frega, ma vedendo in termini relativi, l'80% del tempo è perso. C'è tempo in cui io sono sicuro che il database non è colpa sua, perché il database me lo dice 0,000 secondi. sono sicuro che non è questo add edge che mi rallenta, se volete potete misurarlo, create un grafo finto, senza chi interroga il database, vedete che ci risponde in meno di millisecondi anche lui tutto il grafo. E allora dove lo perdo il tempo? lo perdo qui, nella get connection. Quindi, da un lato, nel caso 1, questa get connection di fatto ci faceva morire il programma, perché chiamavo la get connection che a sua volta crea la connessione, quindi acquisisce il socket per collegare l'applicazione con il database, lo chiamavo troppe volte troppo rapidamente, quindi non riuscivo a finire. In questo secondo caso andava fino alla fine, non aveva problemi, veniva chiamata con solo 200 volte, ma evidentemente l'80% del tempo, noi possiamo avere ottimizzato ciò che vogliamo nel nostro algoritmo, ma l'80% del tempo veniva speso qua. A fare cosa? A fare questa qua, è un metodo che fa un'istruzione sola, driver manager.get connection. Perché in ID SQL quando facciamo questa query non c'è questo problema? Ma perché la connessione è una sola, l'abbiamo aperta quando abbiamo inserito la password dentro ID e la ID SQL mantiene una connessione solo aperta per sempre e dentro questa connessione ci fa tutte le query che servono. Quindi il tempo per aprire una connessione viene speso una volta all'inizio e basta. A questo se vogliamo, correndo di poi, è naturale, visto come sono stati pensati i database da chi li ha inventati. Quando sono nati i database, li hanno inventati come oggetti che gestivano dei dati per conto di applicazioni. L'applicazione in cui, immaginate un contesto bancario, in cui arriva l'impiegato alle 8 del mattino, si collega allo sportello, al terminale, lo accende, quel terminale apre una connessione con il database, lavora tutto il giorno e quella connessione lì dura tutta la giornata e poi lo spengo e stacco la connessione. Quindi il database è ottimizzato per fare tante query su poche connessioni di lunga durata, perché ogni volta che apro una connessione nuova il database viene, innanzitutto devo aprire un socket e questo, la vedo TCP IP, forse avete già cominciato a vedere qualcosa, richiede uno scambio di pacchetti avanti e indietro. Per carità, sono pacchetti tra questo computer e il computer stesso, perché gira sul localhost, però ci sono comunque, bisogna creare gli pacchetti, spedirle, è un altro processo, deve riceverlo, svegliarsi, eccetera, eccetera. Roba di livello sistema operativo, ma il tempo lo spende. E poi il database stesso deve svegliarsi, controllare la password e di fatto fa già una query dentro, lui, interna, per controllare la password, se è giusta, inizializzare strutture dati, aspettare la connessione, eccetera, eccetera. Quindi tutto il tempo di setup per poi fare una query che dura meno di un millisecondo e poi buttare via tutto, ricominciare a capo. Quindi stiamo usando il database in un modo che non è troppo consono alle prestazioni del database, a come è stato pensato, a come funziona, ai principi di funzionamento del database. E allora qual è il trucco per evitare questo problema? Che, lo ripetiamo, è un problema proprio di funzionamento nel caso 1, è un problema di efficienza nel caso 2, nel caso 3 è troppo veloce, non ci crea problemi. Uno potrebbe dire, ma allora facciamo anche noi come fa i DSQL? Quando il programma parte, apro una connessione e la tengo sempre aperta e uso sempre quella. E poi quando il programma finisce, chiudo la connessione. Anziché fare come facciamo adesso, che dentro il DAO ogni volta che devo fare una piccola query, apro una nuova connessione, ne apro una sola all'inizio, che ne sono nel main e poi la uso. Però questo poi crea degli altri problemi, tipo che le connessioni vanno in timeout se non le uso per un po', quindi un programma che abbia un'interfaccia utente, l'utente va a prendere su un caffè, torna e non funziona più, da eccezione perché la connessione nel frattempo è andata in timeout, se è chiusa. Allora dovrei aggiungere il codice di ogni query, vai a verificare che la connessione sia ancora viva, oppure no, eccetera. Ma per fortuna c'è chi questi problemi li ha già risolti per noi e hanno inventato un meccanismo che si chiama connection pooling, che a costo, sforzo abbastanza basso per noi, ci risolve tutto, nel senso che in un modo trasparente fa in modo di non dover creare una connessione ogni volta. Qual è il principio? Il principio è quello di avere qualcuno, che per noi sarà una libreria, quindi non dobbiamo fare noi direttamente, che gestisca un pool di connessioni, un gruppo di connessioni. Cioè quando il programma parte, apre, non so, facciamo due, facciamo tre, facciamo cinque, facciamo dieci, cinque. Cinque connessioni con database, ovviamente è un parametro che sarà configurabile a seconda delle prestazioni. Quindi quando il programma parte, apre delle connessioni con il database e dentro queste connessioni cosa fa? Niente, semplicemente sono aperte lì, ferme, in idle, in attesa. A questo punto il DAO, il metodo DAO, quando deve fare una query, non ha più bisogno di aprire una nuova connessione, ma semplicemente può prendere in prestito una delle connessioni dal pool. Tanto ce ne erano cinque pronte, nessuno le usava, ne prendo una. La uso, quando ho finito di usarla, la restituisco. Quindi ci fossero anche molte query che devono essere eseguite in tempo ravvicinato, magari da metodi diversi, ognuno si prende una connessione diversa, ci fa un suo lavoro e poi la restituisce. Quindi il tempo di aprire il setup, il tempo speso nel setup necessario per aprire nuove connessioni, lo spendo all'inizio quando creo queste connessioni e poi queste vengono date in prestito ai vari metodi del DAO, delle classi DAO che ne necessitano quando ne necessitano. Quindi anziché pensare che il DAO apre una connessione e poi la chiude, pensiamo che il DAO prende in prestito una connessione e poi la restituisce al gruppo di connessioni già aperte. Quindi il problema di aprire le connessioni, di riaprirle nel caso in cui dovessero andare in time out, di eventualmente aumentare il numero di connessioni aperte, se mi accorgo che il programma in questo momento ne sta usando di più. Immaginate alla fase di creazione del grafo, faccio tante query, sarebbe comodo avere più connessioni, non 5 ma magari 10, così riesco ad andare più in parallelo. Poi dopo, quando il grafo è creato, l'utente fa cose, magari c'è meno bisogno e quindi alcune di queste connessioni si possono chiudere, non servono più. Quindi in qualche modo questa libreria, se è intelligente, è in grado anche di dimensionare il numero di canali aperti verso il database in funzione del carico corrente dell'applicazione. Tutto questo una libreria FURMA lo fa in modo trasparente per l'utente. Questo concetto di connection pooling è supportato ovviamente dalla libreria JDBC attraverso un'interfaccia che si chiama data source. Ovviamente supportato attraverso un'interfaccia non vuol dire niente perché poi da qualche parte dovrà avere una classe che implementa questa interfaccia. Quindi noi abbiamo sempre usato finora la classe connection, o meglio una classe che implementasse l'interfaccia connection per gestire la connessione col database. Ma è previsto, già direttamente dalla libreria JDBC, che esista un'altra classe che implementi l'interfaccia data source che a sua volta al suo interno gestisca delle connection. Adesso non andiamo necessariamente a vedere il dettaglio di questo diagramma delle classi, però vediamo che questo data source viene implementato da questa classe grigia che qui è scritto in generale pooling vendor data source, cioè la data source che qualcun altro ha fatto, il vendor, che poi internamente, guardate questa relazione, crea le connessioni. Quindi l'utente usa la classe data source, la classe data source dentro con le sue logiche crea le connessioni e le restituisce e le presta all'utente, eccetera, eccetera. Questa è un po' la soluzione. Quindi dobbiamo imparare questo, fatemi saltare queste slide che sono relative a Tomcat, imparare, trovare una libreria che mi dia un'implementazione della classe data source, perché nella libreria, nel driver JDBC di MySQL non c'è, non c'è una classe che implementi l'interfaccia data source e quindi da solo il driver JDBC non è capace di fare connessioni pooling. C'è questa libreria che si chiama C3P0 che fa questo lavoro. C3P0 ha questo indirizzo qua in change.com, connection and statement pooling. Adesso vediamo come funziona, il titolo ci dice che questa libreria fa innanzitutto connection pooling, quindi gestisce un pool di connessioni verso il database e quindi questo dovrebbe in qualche modo azzerarci il tempo necessario per fare la get connection, perché le connessioni ci sono già. In realtà questa libreria in più fa anche statement pooling, cioè la ma questo se vogliamo un dettaglio minore, quando noi facciamo la query, ad esempio nel metodo 2, la stessa query viene ripetuta 200 volte, identica, è vero che cambia il parametro, ma la query contiene il punto interrogativo, cambia solo il valore del parametro. Allora questa libreria può accorgersi che io sto rifacendo la query una seconda volta e dire al database, caro database, questa query è uguale a quella di prima e quindi il database evita di dover riparsificare, leggere, comprendere la query una seconda volta. Quindi in questo caso gestisce anche un pool di statement usati di recente in modo trasparente a noi e anziché ritrasmettere di nuovo tutte le SQL al database e gli dice riusa quello di prima e così il database non deve fare la parte di analisi della query, farà solamente più l'esecuzione della query e anche lì qualche microsecondo riusciamo a risparmiarcelo. Quindi si usa questa libreria e allora aspetta un attimo che ci manca un passaggio di cosa faccia questa classe data source, come si usa? Adesso una libreria ce la implementa, come si usa? Beh in modo molto semplice, nel senso che la classe data source contiene un metodo che si chiama getConnection, esattamente come driverManager.getConnection, quindi noi anziché fare driverManager.getConnection faremo l'istanza di data source.getConnection, fine. Alla fine ci ritorna sempre un oggetto di tipo connection, su cui facciamo ciò che vogliamo. Chiaramente l'oggetto sarà diverso, perché nel primo caso è una connessione vera e quindi il metodo close la chiude, nel secondo caso l'oggetto di tipo connection sarà un oggetto che implementa l'interfaccia connection un po' diverso, che quando funziona come una connessione, posso lanciare gli statement, eccetera, ma quando chiamo close non lo chiude per davvero. L'oggetto connection restituito dalla data source è una connessione che ridefinisce il metodo close e quando chiamo il metodo close non viene chiusa la connessione, ma semplicemente viene restituita al pool, termina il prestito. Questo è ottimo perché noi non dobbiamo toccare neanche di una virgola i nostri metodi del DAO, perché all'inizio chiamiamo un getConnection, alla fine facciamo close, fino a un attimo fa pensavamo che il getConnection aprisse una connessione, close che chiudesse, invece adesso stiamo pensando che il getConnection prende in prestito una connessione che esiste e close la restituisce, quindi il DAO non si tocca. Ciò che dobbiamo toccare ovviamente è il metodo dentro la classe bbconnect, eccola qua, e dobbiamo evitare di chiamare questo driver manager e usare questa libreria, che è una delle più famose e facili da trovare, invece per farci dare una data source. Allora se guardate la documentazione di C3P0, che è qua, using C3P0, vi spiega come si usa, vi dà due modi. Il primo è quello di istanziare direttamente un oggetto che lui chiama combo pool data source, che è un oggetto che ovviamente implementa l'interfaccia data source. Gli imposta i valori e lui fa tutto il resto, nel senso che ci pensa lui ad aprire le connessioni, eccetera. Oppure, ancora più comodo, questa slide qua non c'era nella versione di slide che avete probabilmente scaricato prima, è la giornata ieri o l'altro ieri, quindi dovete solo riscaricare il PDF, c'è un paio di slide in più su questa parte. Ancora più comodo, dicevo, la libreria C3P0 ci dà una classe di tipo factory. Ricordiamoci cos'è una classe factory. Una classe factory è una classe che ha un metodo statico che ci permette di creare degli oggetti. Crea gli oggetti senza che noi dobbiamo necessariamente conoscere il nome dell'oggetto da creare. Quindi questa classe data sources con la S plurale, attenzione a non confondersi, data source è un'interfaccia standard definita da standard JDBC, sta nel package se non sbaglio javax.sql. Non è in java.sql perché l'hanno aggiunta dopo e l'ho messa in javax, tanto per complicarci la vita. Questa data sources con la S invece è una classe factory della libreria C3P0, quindi non è standard SQL, però ha dei metodi factory, quindi restituiscono un oggetto. Abbiamo un metodo che si chiama unpooled data source, prende come parametro una JDBC URL e mi restituisce una implementazione di data source, cioè un oggetto che implementi data source. Questa è una versione unpooled, cioè ha delle connessioni ma non gestisce il pool, in realtà c'è un secondo metodo che si chiama pooled data source, che prende un data source non unpooled, cioè senza gestione del pool e lo trasforma in una congestione del pool. Questo per dire che alla fine, e questa è la documentazione di questo signore qua, se andiamo a leggere la documentazione dice questa, questa classe è una semplice classe di factory, quindi serve per creare classi, per creare data sources. Generalmente gli utenti, che siamo noi, chiameranno data sources.unpooledatasource per ottenere un data source di base e poi vorranno ottenere sempre gli utenti una versione con pooling, chiamando data sources.pooledatasource, qua ci dice come usarlo, questa classe. Quindi proviamo ad aggiungerlo al nostro programma. Noi vogliamo modificare questo DriveMajer.getConnection con un data source .getConnection e dobbiamo da qualche parte crearci questo oggetto data source, quindi scopriamo come, scopriamo quando. Allora prima di tutto se vogliamo usare quella libreria C3P0 dobbiamo aggiungerlo al progetto. Allora la libreria si scarica da dove dice lui, scarica l'ultima versione da SourceForge. Attenzione che c'è anche il progetto su Github e ci sono delle release da scaricare, il problema è che le release che ci sono su Github contengono solamente il sorgente, quindi dovresti ricompilarti la libreria. Mentre invece su SourceForge ti danno già direttamente il binario, quindi il jar della libreria. Allora io le ho scaricate ieri per non avere problemi con la rete e se voi scaricate da questo link qua di SourceForge, dove andate a finire. Il progetto vi dà un file che si chiama C3P0.0952.bing.zip. Invece il pacchetto che scaricate da Github invece non ha il bing nella parola, nel nome del file. Quello che ci serve è quello binario, io qui l'ho scompattato, questa è la versione scompattata di questo zip e andiamo a vedere che dentro questo zip scaricato da SourceForge ci sono tutte le API, quindi una coppia di documentazione che c'è anche online, anche i sorgenti ma soprattutto le librerie che sono quelli che dovremmo aggiungere al nostro progetto. In particolare al progetto dobbiamo aggiungere due librerie che sono C3P0 e anche questo mChangeCommons perché contiene i metodi usati da C3P0. Quindi dobbiamo prendere questi due, quindi scarichiamo lo zip binario, scompattiamo dentro la cartella lib, non la cartella Source. Ci sono questi due jar e questi due jar come già sappiamo li aggiungiamo alle librerie del progetto che adesso contenevano il SQL Connector, jgraph.t e ci aggiungiamo anche questi due trascinati qua. Una volta trascinati le librerie devo aggiungerli al build path come già facevamo per le altre librerie in modo che anche non siano semplicemente copiati lì ma vengono anche visti da class loader. Mi è bastato aggiungere C3P0, vedete che nelle librerie si è portato dietro anche mChangeCommons perché internamente fanno riferimento l'uno all'altro. Quindi da questo momento in avanti avendo nelle reference library anche C3P0 posso usare questa libreria. E quindi modificare DB Connector in modo da creare un Data Source e non una connessione. Attenzione che però il Data Source non lo devo creare qui o in questo modo. Perché il Data Source è un oggetto che deve essere creato all'inizio, cioè lui poi apre le connessioni, crea il pool, non lo devo creare ad ogni nuova chiamata del metodo GetConnection. Devo fare in modo che l'oggetto Data Source venga creato la prima volta e poi rimanga lì. Riuso lo stesso, altrimenti sto facendo dei danni dieci volte superiori. Quindi un modo è quello di avere magari dentro il DB Connect un altro oggetto statico, chiamiamo DS dentro il mio DB Connect. Statico perché ce n'è uno solo, anche se chiamo più volte il metodo GetConnection, quando GetConnection ritorna quella variabile rimane, me la ricordo, e viene condivisa tra chiamate diverse del metodo GetConnection. E questa è ovviamente JavaX.SQL.DataSource. E quindi quando chiamo il metodo GetConnection, lui delegerà semplicemente la GetConnection al Data Source sottostante. Perché si arrabbia? Perché mi vuole, ma perché JDBC URL non serve più. Quando acquisisco una connessione dal pool, il pool lo sa già qual è la URL, ha già aperte le connessioni, quindi quel parametro lì non serve più. Ciò che manca è la creazione adesso del Data Source. Allora vi potrei dire che il metodo GetConnection la prima volta che viene chiamato inizializza anche il Data Source. Allora come faccio a sapere quando è la prima volta che viene chiamato? Beh, quando DS è ancora null. Quindi prima di fare quel lavoro, controllo se DS è null, allora crea il Data Source. E come fa a creare il Data Source? Beh, come ci dice la documentazione di C3P0, quella frase che abbiamo letto prima. Devi chiamare un pool Data Source e poi prendere il risultato di un pool Data Source e passarlo come parametro a pool Data Source. Va bene. Allora, Data Source con la S che è una classe di C3P0, è un punto classico. Data Source un pool Data Source. C'è una versione, c'erano varie versioni per creare Data Source, quella che fa comoda a noi è quella che richiede come parametro una UGDBC perché ce l'abbiamo già pronta. Altrimenti, se poi andate a vedere la documentazione su un pool Data Source che sono qua, ci sono uno, due, tre, quattro metodi diversi per creare la seconda di come voglio passargli, parametri, lost name, eccetera, eccetera. Ad esempio, questo senza parametri lui va a pescarsi i valori da un file di configurazione. Ma noi in questo caso, visto che noi abbiamo già pronto la JDBC URL, usiamo questa versione che è questa, che richiede semplicemente la URL JDBC e poi la parsifica lei. Allora, questa chiamata mi restituisce una versione semplice della Connection Pooling, io la devo trasformare in una versione con pooling e mi dice il testo, mi dice l'argomotazione che devo chiamare Data Source e spunto Pooled Data Source, il quale Pooled Data Source riceve come parametro una UnPooled Data Source, quindi prende una Data Source di base e lo potenzia. Vedete la documentazione, cosa ci dice? Pooled Data Source riceve come parametro una UnPooled Data Source, questa è la versione che prendiamo noi. Prendi l'UnPooled Data Source appena creata, gli lo passi come parametro Pooled Data Source e lui ti restituisce di nuovo sempre un oggetto che implementa l'interfatti Data Source perché sempre questi sono. E questa roba qua ce la salviamo. andiamo a capo così si legge, ma non usciamo, this non si può usare perché non è, è una classe statica, è un membro statico quindi non c'è this. Quindi, entro entro get connection, verifico se il Data Source è già stato creato in passato. Se è già stato creato in passato, quindi DS non è null, non faccio nulla e semplicemente chiamerò DS.getConnection, prendo in prestito la connessione dal Pooled Data Source. Se invece non è ancora stato creato, quindi è la prima volta che chiamo getConnection, la creo, creo il connection Pooled Data Source e mi ricordo il suo riferimento in questa variabile statica, è statica perché a questo punto viene ricordata anche dalle chiamate successive. C'è ancora un errore qui, jtbc, url maiuscola, semplicemente. E poi diventa tutto rosso perché ovviamente questo qua può generare una SQL exception. Anche lui, così come la getConnection, può generare un'eccezione perché quando creo il Data Source, lui si collega al Database, quindi se qualcuno va storto. Io questo errore è un errore secondo me non recuperabile, nel senso che se per caso non riesco a creare il Data Source, il programma non può fare nulla. Quindi dopo aver stampato l'errore, interromperai proprio il programma. Un exit. Chiuditi perché tanto non posso farci nulla. È inutile stampare l'errore e poi lasciare che il programma continui. Ok, allora questa è l'unica modifica che abbiamo fatto dentro al DB Connect, anziché parlare direttamente col driver jtbc e prenderci le connessioni a mano, parliamo con la libreria C3P0, creiamo un Data Source e ci facciamo prestare le connessioni dalla libreria. Quindi qua non stiamo più parlando col driver jtbc. E' C3P0 che ci pensa a parlarci. Allora, con questa modifica dovremmo essere a posto. Nel senso che i metodi della classe DAO quando chiameranno dbconnect.getconnection questa volta passeranno dal Data Source. E vediamo se è cambiato qualcosa a livello di funzionalità o di prestazioni. Funzionalità spero di no, prestazioni spero di sì. Allora, il primo metodo dice sempre 0 millisecondi. Questi messaggi in rosso sono semplicemente stampati dalla libreria che dice guarda mi sto inizializzando, sto aprendo delle connessioni, stampa un po' di parametri, di configurazione suoi, non preoccupiamocene. Sono messaggi di logging che stampa semplicemente a livello informativo. Qualcosa è migliorato, nel senso che non tanto forse quanto speravamo, ma da 1000 siamo scesi a 800 e da 10-20 siamo scesi sotto il 10 in termini di tempo di esecuzione. Ma soprattutto abbiamo la speranza di poter rimuovere a questo commento, a questa creagrafa, perché non dovremmo più avere il disastro della creazione, dell'esaurimento di tutti i suoi che sono disponibili. Quindi adesso ovviamente ci mette più tempo rispetto agli altri, però termina senza errore, senza andare a distruggere il sistema operativo sottostante. Questi numeri sono molto variabili perché dopo che ho fatto tante query sul metodo 1, praticamente il database MySQL ha già tutto in memoria e quindi il metodo 2 è molto più veloce, quindi non è tanto onesto confrontarli in questo modo uno dopo l'altro, dovrei confrontare solamente il metodo 1, poi chiudo il programma, lo riavvio, testo solo il metodo 2 per avere pari condizioni. Però noi sappiamo quando ci metteva il metodo 2 da solo, ci metteva meno di un secondo, il metodo 1 ci mette 7 secondi, questo ci metteva un po' meno di un secondo, questo ci metteva un centesimo di secondo. Quindi abbiamo quasi un rapporto circa 1 a 10 tra i vari metodi. Se riusciamo, allora che lezione abbiamo imparato? Abbiamo imparato due lezioni, uno da adesso in avanti si usano sempre il connection pool, perché alla fine non ci costa niente, sono due righe di codice in più, però ci risolve buona parte di problemi di fattibilità e di prestazioni nella gestione delle connessioni, punto. La seconda lezione che abbiamo imparato dai numeri è se riusciamo facciamo lavorare il database, poi ci saranno qui magari troppo complicate anche per il database, per cui dobbiamo spezzarle e non riusciamo in una query sola a far tutto, però il database grazie ai suoi indici, alle chiavi primarie, chiavi esterne, è bravo a fare il suo lavoro. Il lavoro che faremo noi in Java andando a prendere un arco per volta e metterli insieme è meno efficiente rispetto al lavoro che può fare il database. Mi dispiace ma l'SQL serve, quindi va conosciuto. Ma più che altro dobbiamo sapere che ci sono sempre varie possibilità nell'implementare le varie funzionalità, chiediamocelo sempre. Faccio query più semplici, faccio query più complesse, faccio tante query e ne faccio poche. Se faccio query più semplici devo aspettarmi che a livello di codice Java avevo più lavoro da fare. Questo è il primo passo che volevo fare insieme a voi. L'ultima cosa, dicevamo quando faccio il close di una connessione, questa non viene chiusa per davvero, dicevamo già, ma viene semplicemente restituita al pool, pronta per essere riusata. Ma queste connessioni, quando è che si chiudono per davvero? Le ho aperte la prima volta che ho fatto getConnection creando il pool, ma quando le chiudo? Allora se volessi chiuderle per davvero dovrei chiamare o il metodo close del data source, oppure sempre usando la classe data sources, quella con la S, chiamare un metodo destroy, che internamente chiama close, quindi fanno esattamente la stessa cosa. E questo lo devo chiamare ovviamente quando sono sicuro che non avrò più bisogno del database. Quindi possiamo immaginare che dentro la nostra dbConnect aggiungiamo un altro metodo, chiudi, finisci, termina, distruggi, che a sua volta internamente chiama questo destroy. E questo lo potrei chiamare ad esempio, se ci interessa, a livello di main, visto che siamo in JavaFX, nel main noi normalmente abbiamo un metodo che si chiama start, quindi non ci abbiamo ancora lavorato nel main in questo esercizio, ma c'è un metodo che si chiama start in cui avviamo l'applicazione. Volendo possiamo anche fare l'override di un metodo che si chiama stop, che viene chiamato quando l'utente chiude la finestra, in cui può andare a mettere, diciamo così, istruzioni per chiudere il programma in modo ordinato. Allora lì dentro potremmo chiamare questo metodo destroy del data source. Altrimenti, vabbè, si chiudono da sole le connessioni, quando il programma termina muore un lato del socket e l'altro va in time out e quindi, visto che il programma termina, dopo un po' vengono chiuse automaticamente queste connessioni, quindi non è così critico distruggere il data source come lo era chiudere le connessioni, perché le connessioni ne uso tante e quindi se non le chiudo si accumulano. Data source ne uso uno, quindi se mi dimentico di chiuderlo, lo chiuderà da solo il sistema operativo. Però se lo vorremmo fare esplicitamente usiamo questo metodo qua, data sources.destroy, probabilmente dentro un metodo stop del mio programma main. Ok. E fin qua avevamo giocato sulla costruzione del grafo. E la settimana scorsa in laboratorio avevamo lo scopo di creare il grafo e andare a vedere quali sono, dato uno stato di partenza, quelli adesso confinanti, confinanti in modo diretto o confinanti in modo indiretto, eccetera. Quindi adesso che abbiamo tutto il programma funzionante, riusciamo a caricare il grafo e tutto, possiamo ritornare sul discorso delle visite. Adesso abbiamo il grafo di connessione degli stati, vogliamo sapere da un certo stato di partenza. Uno, quali sono gli stati raggiungibili a partire da questo? E due, qual è un percorso possibile per raggiungere questi stati? Ok, quindi lavorando su questo grafo, io voglio costruire insieme a voi un'applicazione JavaFX, quindi lavoriamo anche all'interno dell'interfaccia finalmente, in cui inizialmente carico il grafo. Dopo che ho caricato il grafo mi fa vedere l'elenco di tutte le nazioni, ne scelgo una e scelta una nazione mi dà l'elenco delle nazioni raggiungibili da questa, facendo, l'abbiamo visto la settimana scorsa rapidamente, una visita sul grafo, quindi fare la visita mi ottiene l'elenco delle nazioni. A questo punto io so che dall'Italia la Svezia è raggiungibile, perché facendo la visita a partire dall'Italia trovo tra l'insieme degli stati anche la Svezia, il passo dopo è selezionare tra gli stati raggiungibili dall'Italia uno di questi stati e chiederci qual è il percorso per raggiungerlo e questo invece non l'abbiamo ancora fatto. Allora, cominciamo a costruire questa applicazione? Iniziamo un po' e poi continueremo e così nel frattempo andremo ad aggiungere un altro paio di ingredienti al nostro schema tipo di programma. Allora, il punto di partenza, dicevamo, è, per ragionarci più facilmente, disegniamo l'interfaccia. Anzi, fatemi fare un bel commit, adesso che siamo in un punto stabile. Qui, TB Connect, SMODE, tutto qua. Ok. Implementazione con connection pooling. Ok. Allora, mettiamo un titolo. è un po' diverso da quello del laboratorio, ovviamente c'è qualche pezzo in più, eh? Quello che vogliamo fare adesso. Dobbiamo inserire... No, scusate, è un H-box. Così vi illustro meglio cosa ho in mente. No, non lì. Qui. Combo. Ok, allora. Allora, quello che pensavo di fare è selezionare uno Stato, uno Stato di partenza da questa tendina e quando l'ho selezionato, col primo bottone cerca i raggiungibili. dopodiché tra i raggiungibili che trovo, ovviamente vado a popolare la seconda tendina che conterrà solamente gli stati raggiungibili dal primo che ho trovato e quindi posso permettere all'utente selezionare uno Stato di destinazione. La destinazione che non conterrà ovviamente tutti gli stati ma solamente quelli raggiungibili dal primo. E a questo punto cerca un percorso. Percorso. Non necessariamente il più breve, ma almeno un percorso che mi porti dallo Stato di partenza allo Stato di arrivo. Ok, quindi programma parte, popola la prima tendina, la seconda non ancora, l'utente clicca, seleziona uno Stato di partenza, clicca su Cerca raggiungibili, a questo punto partendo dalla Stato di partenza trovo l'elenco di stati raggiungibili, popola la seconda tendina e a questo punto selezionando anche uno Stato tra quelli raggiungibili della seconda tendina posso cercare il percorso e questo viene stampato e visualizzato. Un percorso, non stiamo dicendo il più breve. Ok? Quindi questo è quello che cerchiamo di realizzare. Quindi diamo dei nomi a questi oggetti, abbiamo due oggetti che contengono dati che sono la tendina di partenza, chiamiamolo box partenza, ecco la di arrivo, destinazione, così la stessa parola, destinazione, si è anche scritto giusto, e ho due bottoni, Cerca raggiungibili e Cerca percorso che associerò degli eventi, handle raggiungibili e handle percorso. E poi avrò la solita finestra di testo in cui ci scrivo cose, che tra abitudine chiamo TextResult. Quindi abbiamo questi tre elementi, box di partenza, box di destinazione e la casa di testo con il risultato che già ci sono, la metto non modificabile dall'utente, e i due eventi on action associati al bottone Cerca percorso. Allora avendo questo salvo l'fxml e faccio costruire un controller, copia e il controller che era vuoto e ci incollo dentro tutto. Proviamo a farlo partire, per la prima volta il main e non il programma di test. Ok, adesso non fa nulla ovviamente, ma dobbiamo nel main buttare via questi numeri che danno fastidio. Ok. Adesso il solito gioco è quello di collegare il controller con il modello, perché abbiamo un controller che per ora non fa nulla, ma c'è, è il modello che è in grado di creare il grafo con modi diversi e li dobbiamo collegare. Questa è una modifica che purtroppo dobbiamo fare ogni volta. fxml loader new, questa roba qui. E questo si chiama loader.load. A questo punto creiamo il modello. e dal controller passiamo riferimento a quel modello. Quindi dobbiamo andare nel controller, aggiungere una variabile privata model e aggiungere il setter per questa variabile model. no, no, get3 setter, mi basta il setter, quindi facciamo così, sorgente, crea get3 setter per model il setter. e quindi a questo punto nel main non devo fare altro che prendere il controller, get controller e chiamare su questo controller setter per model che ho appena creato. perché è un object, quindi devo dirgli che è un country. che ho sbagliato qua. vabbè, niente, ero pigro, non volevo dichiarare una variabile controlla. e Java mi ha punito. facciamo tutti i passaggi. si chiama tanto il controllo, sì. si chiama tanto il controllo, sì. country e non country. mi manca una U nel nome della classe controller. fatemi male. allora, country. poi ovviamente devo andare a modificare anche nell'fxml. country. ovviamente devo rinominare anche il file. ok. direi che siamo posti col main. allora, abbiamo il set model dentro il controller. dove è andato il controller? l'ho chiuso ovviamente. per rinominarla. allora, la cosa più facile, cominciamo a popolare la prima tendina. questa è una cosa di un attimo perché ormai dovremmo vedere tutto. per completare il modello dobbiamo solo, diciamo, tipizzare, no? di dire questi tendini che cosa contengono. ovviamente per noi conterranno degli oggetti tipo country. e poi se non ci piace, come vengono visualizzati, andremo a modificare il toString di country. quindi importiamo model.country e poi nel set model, come abbiamo capito che il punto in cui posso inizializzare le parti dell'interfaccia che dipendono dai dati del database, se devo fare un set model e non posso fare un initialize, qui vado a riempire la prima tendina con un elenco completo delle nazioni. a questo elenco completo delle nazioni, me lo faccio dare ovviamente al modello. qui nel modello che per ora aveva un'unica variabile che era il grafo, perché l'avevamo usato per giocare a quel grafo, converrà a tenerci anche qualche altra informazione comoda, ad esempio l'elenco delle nazioni, che tanto noi l'abbiamo usato per creare i vertici, però conviene averlo comunque, quindi abbiamo private, list, country, countries, per tutte le nazioni, e possiamo definire un metodo che calcoli e restituisca queste countries. public, lista di country, get countries, un metodo attraverso cui il modello mi restituisca l'elenco di tutte le nazioni definite nel database. Allora, l'implementazione stupida sarebbe semplicemente dao.list country, in realtà visto che questo elenco di country lo faremo molte volte, lo useremo molte volte, servirà in tutti i momenti, serve per popolare la tendina, serve per creare il grafo, eccetera, noi facciamo in modo, faremo in modo di chiamarlo una volta sola e poi riusare il risultato nelle volte successive. Cerchiamo sempre di non fare inutilmente più volte le stesse quidi verso il database. A un certo punto per popolare la tendina mi serve, no, mi serve l'elenco delle nazioni, va bene, faccio la query. Poi per creare il grafo mi serve l'elenco delle nazioni, ma non rifaccio più la query. Allora, il modo migliore è quello di nascondere dentro get countries la conoscenza del fatto che un dato è già noto. In questo caso countries era nulla qua, la dichiaro è una variabile nulla. Quindi facciamo lo stesso giochino che avevamo fatto dentro il dbconnect. se countries uguale null, mettiamo il this.countries così esplicito, allora, e vabbè, non lo so ancora, quindi l'unica soluzione che ho è quella di andare al database. Se invece non era nulla, ce l'avevo già. Quindi non ho bisogno di fare la query, questa query non la faccio. La faccio solo se this.countries è nulla, vuol dire che non l'ho ancora fatta questa query. Quindi ciò che vedete qua è che la prima volta faccio la query davvero nel database e restituisco il risultato della query che ho appena fatto. Le volte successive dovessi chiamare questo metodo get countries altre mille volte, in tutte le altre volte vado direttamente a ritornare il valore che già conoscevo. Una sorta di caching, mi ricordo il risultato a breve e non lo vado a ricalcolare ogni volta. Fateci sempre attenzione. A volte vedo dentro, magari nelle vostre implementazioni, dentro dei metodi, dentro dei loop, magari annidate, dei get che sembrano innocenti, chiamano informazione al modello, quando poi ti accorgi che in realtà il modello ogni volta va a richiedere al database quell'informazione. Quindi però quando scrivi il codice è semplicemente una get, dammi quello, dammi quell'elenco, dammi quel vertice, va bene, non mi costa niente, sembra un getter normalissimo, invece sotto fa una chiamata al database. E poi magari non riuscite a terminare il programma perché è troppo lento. Devo sempre essere coscienti del fatto che una chiamata mi restituisce un dato pronto, cioè ce l'ho già in memoria, oppure me lo deve andare a prendere dal database. In questo caso abbiamo implementato un metodo che va a prendere dal database se è necessario, cioè se non lo conosce ancora, se invece non è necessario, ce lo conosce già, restituisce semplicemente la copia vecchia e non va a ricalcolarla. Questo significa che già che ci siamo andiamo a modificare gli altri metodi crea grafo. A questo punto non chiamo più list country, ma chiamo get countries. Get countries il quale a sua volta chiamerà il DAO se è la prima volta, altrimenti userà il risultato. Io scrivo this.get countries e non scrivo this.countries. Anche se essendo dentro il modello potrei pescare direttamente la variabile countries, no? Cioè è una variabile privata, ma io qua sono sempre dentro il modello e quindi la posso vedere. Perché non scrivo this.countries? Perché non sono sicuro se è già stata inizializzata. Io non so chi usa il modello, se chiamerà prima il metodo crea grafo o prima il metodo get countries. Quindi per pararmi contro ogni evenienza io passo comunque sempre dal getter. Anche internamente alla classe non uso i campi se il getter è intelligente, non mi istituisce semplicemente il valore, ma fa anche del suo ragionamento. Quindi devo passare da lì. Così sono sicuro che funzionerà sempre, indipendentemente dall'ordine con cui vengono chiamati i metodi. Perché io magari adesso so che li chiamerò in un certo ordine, perché prima popolo la tendina, poi faccio i vicini. Ma chi non sa che questo modello non debba poi crescere in un'applicazione che fa cose diverse? E va, lo puoi debaggare. Get countries. Quindi mettiamoci già subito nella posizione. Di essere dalla parte della ragione. Ok, get countries finalmente ce l'abbiamo e possiamo usarlo per popolare la tendina, così almeno vediamo qualche cosa. Allora, la tendina era box partenza, punto, get items, punto, add all. Di che cosa? Model.get countries. E se il santo protettore degli intervalli ci assiste. Allora, vedete che qua ha sparato roba C3P0 perché dentro il model abbiamo fatto il DAO punto list countries e il list country ha fatto la get connection e la get connection ha aperto il pool. E qua ci sono in un ordine a cui non abbiamo mai fatto attenzione, in un formato che non ci piace tantissimo, ma perlomeno tutti gli stati di partenza ci sono. Abbiamo popolato la prima tendina, ovviamente la seconda è ancora vuota, ma questo ci dà il diritto di prenderci 20 minuti di intervallo. Grazie. 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 Grazie.